Gossip News Vi saluto, vi seguo sempre Grazie, a presto Rilassata e serena Pacifica e glamour È Barbara Lini Con in testa un inedito cappello Che nasconde un segreto I suoi capelli bicolore Per colpa del set E tutti quanti saranno curiosi di vederlo? Una parte, posso fare Qui sono neri E qui sono mia Basta Basta, non faccio di più Basta L'attrice vive un periodo di transizione No, diciamo un buon periodo Però un periodo particolare di rinnovamento Lo definirei Evidentemente è tempo di bilanci Ma è un periodo di crescita Insomma, quindi Quindi ho 38 anni Sto valutando un po' Un po' un resoconto Di quello che ho fatto fino adesso Però tutto sommato Un po' un periodo Non mi lamento Barbara è avara Nel darsi il voto Il bilancio Diciamo un 6 Sufficiente Non sono mai soddisfatta io Sono abbastanza esigente Pretendo sempre molto Da me stessa Quindi Però non mi lamento Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti